una buona serata a tutti voi nuovo appuntamento con Angoli benvenuti in studio vi ricordo subito il nostro indirizzo di posta angolichiocciolaespansionetv.it potete scrivere a questo indirizzo per rimanere costantemente collegati con la nostra redazione andiamo a scoprire chi è venuto a trovarci studio questa sera sono amici carissimi ai quali do il benvenuto subito il benvenuto a Simone Tommassini grazie per essere qui e insieme a lui Paolo Meneguzzi un altro amico inutile dire che siete due grandi musicisti racconterete anche della vostra attività anche di produttori perché ci sono delle novità nella vostra vita almeno questo è l'indirizzo che volete dare almeno ad una parte dei vostri progetti ma non è tutto perché sono qui anche per parlarci di un evento un evento davvero imperdibile parliamo di un musical che sarà a maggio e che insomma già il titolo Romeo and Juliet insomma è imperdibile Simone a te la parola anche per anticipare questa cosa ma io innanzitutto sono contento perché sapete quanto voglio bene espansione quando c'è una novità che riguarda non solo la mia vita giornaliera ma soprattutto artistica mi fa piacere venire a trovarvi e sono particolarmente contento perché oggi c'è Paolo con me siamo amici da tanti anni e condividiamo tante cose insieme anche al di fuori della della musica e aver condiviso anche questa questo nuovo progetto che si attacca a un progetto iniziale che abbiamo costruito insieme che era pop music school che è la scuola di musica in Ticino dove abbiamo due sedi una a Lugano e una a Mendrisio e dove insomma cerchiamo con la nostra esperienza di passare ai ragazzi insomma un po' anche il testimone della musica e dire insomma ce l'abbiamo fatta noi possiamo in qualche modo indirizzarvi aiutarvi a realizzare magari ma anche poco però il vostro sogno ecco Simone quindi una generosità artistica Paolo vengo da te ora che vi distingue in un certo senso perché di solito soprattutto una volta raggiunta la notorietà e il successo si pensa comunque a consolidarlo difficile o difficilmente si vuole regalare la propria esperienza ai giovani invece le immagini che la regia ci sta mandando in questo momento ci raccontano da contributo innanzitutto è la curiosità e l'entusiasmo dei giovani nell'avvicinarsi all'arte e da parte tua Paolo questo impegno proprio che si è concretizzato addirittura in una scuola me ne parli? sì beh a parte che senza Simone sarebbe stato cento volte più difficile perché lui mi dà a parte tantissima energia positiva quindi è un risolutore Simone oltre a musicista e a compositore anche risolutore di problemi beh è nata insieme questa scuola poi devo dire che stiamo imparando tantissimo anche noi dai ragazzi cioè non si finisce mai di imparare noi cerchiamo di aiutare per quello che abbiamo imparato però alla fine scopri che poi oggi più che mai con l'avvenimento di Youtube e tutto quello che c'è a livello social c'è tutto da scoprire anche per noi entriamo in una nuova dimensione in un nuovo modo di pensare la musica e anche se ne siamo in un certo modo almeno io ne sono uscito anche un po' fuori perché non lo capisco ancora no? forse ho bisogno di un po' di tempo ecco facciamo un accenno anche ai tuoi trascorsi musicali che sono chiaramente noti a tutti anche come quelli ovviamente di Simone nel panorama musicale italiano siete stati e siete tuttora due artisti di riferimento però ad un certo punto forse vi siete un po' allontanati dal contesto musicale innanzitutto vorrei capire anche perché forse per sperimentare altro forse perché questo ambiente insomma vi aveva già dato e forse avevate voglia di scoprire altre cose Paolo come è andata per te? beh io ho da poco l'anno scorso erano vent'anni che faccio questo lavoro a livello professionale quindi ho iniziato dal Sud America nel 1996 perciò da lì non mi sono mai fermato ho sempre remato, 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 remato poi arrivi a un certo punto però in cui ti chiedi ok quindi? e quindi cioè cos'è la cosa nuova? la cosa che ti può stimolare? la cosa che ti può dare? dare qualcosa di più no? e se riesci ad uscirne dal fatto del successo, dei vizi, di tutto quello riesci a scoprire anche dei mondi meravigliosi nelle cose molto più semplici nel fatto di dare qualcosa agli altri nel fatto di comunque comunicare anche qualcosa di diverso nella tua vita di voler fare qualcosa, una famiglia di voler fare qualcosa anche di più tra virgolette semplice ma alla fine più vero, più bello ecco perché Paolo tu davvero hai toccato un tasto importante soprattutto nella vita degli artisti o delle persone che comunque grazie alla loro professione insomma magari un po' differente da quella le persone comuni poi si ritrovano ad essere famosi, conosciuti e quindi anche in un contesto insomma di abitudini come tu ricordavi che li allontana un po' di fatto dalla realtà assolutamente quella vera ed è difficile staccarsi o se non altro averne consapevolezza e quindi poter fare una scelta? è difficile capirlo perché quando sei dentro nel circuito e hai visibilità hai fame di quello cioè continui ad avere fame probabilmente a volte deve succedere anche qualcosa che ti stacca da quel mondo lì cioè a me personalmente è successo che non è stato bene mio padre e mi sono fermato ho alzato le mani un attimo sono riavvicinato alla famiglia e da lì ho scoperto un mondo che prima io avete un po' dimenticato sì per me non esisteva perché ero cioè capisci che dopo vent'anni che fai sei sul palcoscenico tutti ti girano intorno tutti cioè sei un po' viziato no? non riesci più a capire che cos'è la vita veramente quindi bisogna fare un passo indietro bisogna fare deve forse succedere qualcosa perché da solo non so se riesci ad uscirne qualcosa anche di serio come hai ricordato Simone qualcosa di serio è accaduto anche a te a un certo punto mi è otto confermi questa teoria io ho perso il mio papà e quindi tra l'altro suo padre lo adoro quindi sono molte cose che vi accomunano tantissime sì tantissime dalla famiglia perché il suo papà e la sua mamma mi ricordano molto il mio papà e la mia mamma cioè abbiamo già da lì dalle radici abbiamo un po' di valori molto simili poi siamo siamo tutte e due abbiamo sempre rispettato molto il lavoro che facciamo e che abbiamo fatto in precedenza nel senso che quello che cerchiamo anche di far capire ragazzi è proprio che non bisogna mai accontentarsi se oggi va bene domani non può anche non succedere potrebbe essere diverso poi io mi permetto di ricordare anche a chi ci sta ascoltando di fatto è quello che si vede da fuori questa facciata probabilmente fatta di cose fantastiche insomma tutto facile invece in realtà il vostro lavoro è molto difficile credo di sì cioè nel senso che è bello ma nello stesso tempo nasconde dietro tante cose poi alla fine penso che per Pablo sia così cioè anzi a volte visto che noi siamo stati proprio messi nel tritacarne per anni e anni consecutivamente ho fatto un reality io tra l'altro ne parlavamo fuori onda lui ha fatto tantissime cose cioè entrambi eravamo veramente messi sotto pressione quotidianamente e personalmente ma credo che può confermarlo anche lui il momento più bello era andare sul palco cioè perché il di fuori era tutto si faceva tutto per quello quindi è tutto in proiezione di questo momento di questa performance che poi ovviamente porta via tantissima energia è normale che sia così tanta ne date al pubblico che avete davanti ma poi tanta ovviamente avete bisogno di recuperare perché è davvero in questo senso dicevo comunque una vita difficile stressante quindi non fermiamoci noi che non siamo così come siete voi famosissimi però insomma c'è un aspetto complicato sì poi è una cosa una cosa bella che cerchiamo anche di fare ai ragazzi cerchiamo anche un po' di proteggerli no? siccome noi le sappiamo le cose io quando quando ci troviamo in aula con i ragazzi spesso diciamo avete di fronte ricordatevi due ragazzi che che hanno realizzato il sogno che voi volete realizzare quindi non avete l'insegnante quello classico che vi fa cantare poi chiude la valigetta e va a casa io continuo a fare l'artista lui continua a fare l'artista continuiamo a scrivere o comunque per altri o tra di noi comunque ci inventiamo questo lavoro giornalmente quindi è quello che cerchiamo di far capire ai ragazzi che non bisogna un po' i ragazzi oggi sono soli ecco come è cambiato perché questo è un aspetto interessante cioè voi vent'anni fa probabilmente quando avete iniziato avevate vi siete calati in un mondo ne abbiamo parlato avevate delle aspettative delle speranze sono le stesse o sono diverse da quelle dei ragazzi che oggi vengono a frequentare la vostra scuola ma è proprio cambiato il modo al quale ci stiamo un po' adattando anche noi proprio perché per questo dicevo i ragazzi sono soli perché una volta avevi la possibilità di farti sentire ritrovavi un produttore che credeva in te metteva magari dei soldi e quindi ti produceva oggi invece funziona al contrario il ragazzo da solo deve riuscire a entrare nel reality che poi ti porterà al successo e poi la casa discografica subentra in un secondo momento quindi in teoria il ragazzo deve prodursi autoprodursi il disco e deve essere un fenomeno anche economica molto pesante e complicata anche per le proprie famiglie poi vi do una notizia manca proprio solo un minuto alla fine della nostra chiacchierata già ma fortunatamente insomma tra qualche tempo tornerete qui in studio da me perché voglio dopo avervi conosciuti meglio e capisco che c'è ancora molto da conoscere su di voi quindi avremo un'altra occasione per approfondire la vostra conoscenza ma soprattutto per raccontare che cosa è uscito anche da questa scuola e da questo confronto cioè questo musical quindi Simone a te la battuta di chiusura per lanciare questo musical del quale poi parleremo la prossima volta che ci incontreremo sì dal 22 al 23 24 quindi 22, 23, 24 maggio ci sarà questo musical Romeo and Juliet eccolo qua al Palazzo dei Congressi a Lugano prodotto dalla Pop Music School di Paolo e dove di fianco ci sono io e tutti gli altri validi professionisti che abbiamo che abbiamo intorno e vi invitiamo a venire a vederlo perché sarà veramente una rivisitazione completa partendo dalla musica i testi che abbiamo scritto io e Paolo insieme a Fernando e a Margherita insomma a Sara e tutti gli altri ragazzi che fanno parte del nostro musical poi se Pablo vuol dire l'ultima chiudere l'ultima velocissimo un secondo vai no venite a vedere dei ragazzi di talento che magari non hanno avuto quella fortuna che poi abbiamo avuto noi che ci vuole sempre però hanno tanto da dire allora invitiamo a save the date per questo appuntamento io invito voi invece a tornare insomma più sotto evento per approfondire appunto questa bellissima esperienza per parlare ancora di musica insieme a Simone Tommasini e a Paolo Meneguzzi grazie e a presto grazie a voi ciao buonasera grazie anche a voi ma restate lì perché Angoli tra poco torna in studio grazie a tutti